Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo gameplay di Kao de Kangaro. Allora sto facendo sempre più schifo, ho perso un'altra vita perché si mi sono dovuto rifare un percorso all'inizio, non c'è modo di fare le vite tipo infinite nel senso tipo qualche bug e quant'altro, ho trovato finalmente una cavolo di videoguida e niente, qui comunque è in forma che è una delle parti più difficili da fare, che è dove sono adesso praticamente, ho tre vite, tutte le vite sane, il problema di qua è che non è per niente facile, ora, no, ora, la tempistica, la tempistica, ne ho perse due, perché ne ho perse due? Ho scoperto un'altra cosa, io non so se sto gioco, se sta cosa si è sbloccata dopo, ma penso di sì, sto gioco è veramente complicato per la questione che per, sì ma altre vite mi sa che non ce n'è, per la questione, aspetta, per la questione del, del, dei collezionabili, perché quanto pare quale gemme blu si devono riprendere di nuovo, però cambieranno posizione, lo rifaccio da capo perché non va bene così, non si può di poter esistere, no? Ah, mi riporta proprio all'inizio, neanche magari mi riporta, dopo ho, diciamo, l'inizio della cosa, no? Dall'inizio proprio, veramente, ma che senso ha? Allora, devo sentirmi comunque pronto qui, ora. E ora, qua. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, che ho recuperato anche la vita che avevo perso per ora, allora, collezionabile, allora qua devo prendere questo. Andatemi un attimo perché qui non mi ricordo. Allora, mancano solo le lettere, perché le rune sono dove, allora, parcolate che ci sarà un'altra parte, dove dovrò, si è bloccato tutto, aspetta, vediamo se trovo il video in questione, era il video della guida, ecco, di un'ora e mezza, che era l'unico che, allora, io sono arrivato, dove cazzo era arrivato? No, io qua non ricordo proprio dove cavolo sono qui. Ok, qua c'era la pietra. No, comunque, a quanto pare, là non c'era nulla, quella lascia. Ok, sì, c'è una lettera, però devo andarci da un'altra strada, allora. Qua devo attivarlo. No, qua devo attivarlo di nuovo perché sennò non va. Qua, qua devo disattivarlo. E in teoria, da qui. Ok, andiamo di qua. In teoria, devo trovare di là, ok. A qua lo sto attento perché ci sono quelle spunte che mi possono far danno. E i pesci, ora. Ah, ma dai, figlio di buttare un pesce di merda, ma che cazzo? Ma pover figlio, ecco, perché mi ha colpito, ha perso due dite, vaffanculo. Comunque, non c'è paragone all'altro. Cioè, all'altro, al gioco normale, perché questo letteralmente è troppo complicato. Cioè, io che ricordi non era così come, vabbè che sono peggiorato a giocare, però... Così è troppo esagerata la cosa, troppo. Oh, non ci riesco. Non riesco a salire, butta madre, se la buttana. Minchia, non è possibile, oh. Non è possibile. Non mi fa salire. Non mi fa salire. Come cazzo ci vado? Che ricordi è come ho fatto tutto un taglio, perché... Io sto gioco veramente non lo vorrei più portare, perché è vergognoso, è vergognoso. Se uno con quattro vite, probabilmente ci muoio, perché già lo so. Sì. 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 Ok, allora Allora, proseguendo qui Vediamo un po' la guida Ok, qua c'è forse l'altra lettera Andatemi un attimo Sì, ok, allora Aspetto Perfetto 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 In teoria non dovrebbero esserci più collezionabili in questo livello Giusto? No, perfetto Ora qui c'è la parte più complicata di tutte Raffanculo Ma è stato troppo veloce Non ho il tempo di prenderlo, cazzo Comunque la visuale fa schifo di sto gioco Veramente fa schifo Fa cacare i polli Oh minchia Non si può manco muovere bene Che mi cambia Cazzo di ragno di merda Ragno di merda Non mi ricordo se là c'erano delle vite Ma penso di no però Perché non si arrampi Il gioco che Questo gioco è fatto col buco del culo Perché veramente C'è la cosa che si arrampi Che non la prende Ma dice seriamente Ma io non ce la posso fare così Veramente Non ce la posso fare così Ma dice veramente sto gioco Non mi ha preso il tempo Non ci credo Dove va Ma io dico Ma tutti i punti che prendo Ci sono cose E sono già due vite E sono già due vite Io ve lo dico Come perdo tutte le vite E sto gioco non lo porto più Perché veramente Mi sono rotto i coglioni No Non si può andare avanti così Seriamente Non si può andare avanti così Veramente Non mi salta 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 Gioco di merda Gioco fatto col buco del culo Perché veramente È fatto col buco del culo Sto gioco Spacco tutto oggi Spacco tutto Veramente Spacco tutto Minchina Non è possibile Che non si arrampi Che sto messo la giro in coglione Unito Ma dici seriamente Che cazzo hanno fatto Con sto DLC L'hanno peggiorato L'hanno reso più complicato E più merdoso Che cazzo sto gioco Che cazzo devo fare là Che cazzo devo fare là Che cazzo devo fare Che cazzo devo fare là No 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 Io non ci credo Io non ci credo 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 Non si può fare sta cosa Non si può fare Questo DLC è E' impossibile E' impossibile E' impossibile Ma da capo Vero? No Io dopo di si stallo Mi mando a fanculo Non lo porto più E mi dispiace dirlo Questa serie è conclusa così Non la porto più Non la porto più Perché sto gioco Fa schifo Fa schifo Lo hanno peggiorato Invece di migliorarlo Con il DLC Io vi saluto E ci vediamo alla prossima